Benvenuti al TG Lease. Telecom Italia è stata venduta all'azienda spagnola Telefonica. Forti dibattiti all'interno del governo e forte reazione dell'opinione pubblica per la vendita di una delle più importanti aziende italiane. Problemi a Venezia per le crociere che passano vicino la città. Le navi che pesano centinaia di tonnellate rischiano di inquinare e rovinare la sicurezza della città. Molte organizzazioni si sono attivate per impedire l'avvicinamento delle crociere sul Lido. Angela Merkel ha vinto le elezioni in Germania. Il suo partito CDU ha ottenuto molti voti ma non è sufficiente. Sarà costretta a cercare un'alleanza con un altro partito per poter governare. Calcio violento in Serie A. Scontri tra tifosi prima e dopo il derby tra Roma e Lazio. Stessa situazione anche a Milano nel posticipo tra Milan e Napoli. Diverse banche americane hanno deciso di controllare i profili Facebook, Twitter e LinkedIn dei propri clienti. Infatti, prima di concedere un mutuo, le banche vogliono conoscere i dati personali e le amicizie dei clienti. Se il cliente ha amicizie con persone che non pagano i propri debiti, la banca non concede il mutuo. Questa settimana l'antiquariato sarà protagonista a Genova e a Roma. Infatti, dal 24 al 27 settembre, la casa d'aste One Neses venderà la collezione Serna Giotto, famoso gentiluomo napoletano. Il Tigilis è finito. Arrivederci da Pippo Sclafani, sordo, e Salvatore Romano, udente.